Di solito quando avvengono questi scandali di portata enorme sono il segnale di un rapporto malsano tra la società e il denaro. Non c'è dubbio che gli interventi fortissimi delle grandi banche centrali, in particolare la Federal Reserve, per rispondere alle grandi crisi finanziarie e economiche di questi anni, la crisi finanziaria, poi la pandemia, abbiano aumentato tantissimo, troppo l'appetito per il rischio, dunque hanno gonfiato bolle dappertutto nel sistema finanziario e una delle maggiori bolle è sicuramente quella delle criptovalute. Federico Fubini, curatore della newsletter Whatever It Takes, spiega così l'ultimo scandalo economico che sta spaventando gli Stati Uniti, quello della criptomoneta FTX, fondata e gestita in modo molto avventuroso da un trentenne, Samuel Bankman-Fried, di cui Fubini ci racconterà la storia in questo episodio. Gabriele Petrucciani ci spiegherà poi in che modo questa vicenda si incrocia con il pessimo andamento dei Bitcoin nel 2022. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di lunedì 21 novembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Federico Fubini, chi è Samuel Bankman-Fried? Bankman-Fried è il figlio di due importanti professori di legge di Stanford, dunque nasce in qualche modo nel privilegio e nell'elite intellettuale americana. Lui stesso si laurea in fisica al Massachusetts Institute of Technology e inizia una carriera come trader in una importante casa di trading di Wall Street. Poi nel 2017 lascia perché dice si vuole dedicare a tempo pieno alla filantropia e dunque entra in una organizzazione non governativa, si occupa di filantropia di giorno. Di notte invece? Di notte inizia a fare trading in particolare di Bitcoin all'inizio perché si era reso conto che c'era una differenza di prezzo fra il Bitcoin scambiato a New York e il Bitcoin scambiato a Tokyo. Dunque quello che lui faceva faceva arbitraggio, comprava Bitcoin da una parte e li vendeva dall'altra lucrando la differenza di prezzo e guadagnando molto denaro. Poi alla fine si rende conto, dice lui stesso, che passava tutte le notti in piedi a fare questo trading di Bitcoin e dedica la sua vita di investitore alle criptovalute fino a quando fonda quella che diventerà la quarta, fino a qualche giorno fa, la quarta più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo. Che cos'è una piattaforma di trading di criptovalute? Pensate a una borsa, la borsa dove si scambiano azioni, titoli. Bene, quella è una borsa dove si scambiano criptovalute e a un certo momento sulla piattaforma FTX, basata alle Bahamas, fondata da Sam Bankman-Fried, si arrivano a scambiare quasi 300 tipi diversi di criptovalute, incluse la criptovaluta che lui stesso aveva generato, come se fosse una banca centrale, si chiamava, si chiama o si chiamava, non ha nessun valore oggi, FTT e questa era l'attività principale di Bankman-Fried. In parallelo Bankman-Fried aveva anche un suo fondo di investimento chiamato Alameda Research che portava avanti insieme al servizio di, diciamo, incontro fra domanda e offerta degli ordini della clientela che passava attraverso la sua piattaforma. Questo dal punto di vista formale. Dal punto di vista strategico, politico, questo ragazzo che adesso ha 30 anni si è mosso sempre con una enorme abilità, era diventato molto rapidamente un importante donatore del Partito Democratico e questo anche gli dava accesso naturalmente ancora di più a queste elite contemporanee degli Stati Uniti. A un certo momento alle sue conferenze era riuscito ad invitare Bill Clinton, Tony Blair e poi sempre in maniera molto scaltra è riuscito a ottenere l'endorsement di tutta una serie di celebrities. Qualche nome? La campionessa di tennis Naomi Osaka a un certo momento ha dato 135 milioni per la sponsorizzazione della squadra di pallacanestro di Miami. Giselle Bundchen ne ha fatte tante di questo tipo per legittimare e affermare come brand questo FTX, se non che come spesso succede nell'industria delle criptovalute, non si sa molto bene cosa succede là dentro. Cosa sappiamo di quello che è successo dentro FTX? Non dimentichiamo che negli 11 mesi che terminano nel novembre del 2021 il valore delle criptovalute in aggregato passa da circa 800 miliardi di dollari a circa 2.800 miliardi di dollari, dunque una crescita di circa il 75%, una moltiplicazione di valore di 2.000 miliardi di dollari. In quel periodo non è stupefacente che chi aveva molto a che fare con le cripto riesce a diventare ricco e sulla carta Bankman Freedom era diventato una delle persone più ricche del mondo con un patrimonio stimato in 23 miliardi di dollari. apparentemente aveva così tanto successo che era riuscito a trarre anche capitali e investimenti nella sua piattaforma FTX dell'aristocrazia della finanza americana, se non che a un certo momento sono iniziate le voci sulla solidità di questa struttura e quando le voci si moltiplicano presto danno luogo a una richiesta dei clienti di ritirare i fondi che hanno depositato, in questo caso presso la piattaforma per poter fare trading e Bankman Freedom si è capito subito che non era in grado di far fronte ai tini. Un po' come una banca che chiude gli sportelli perché non ha liquidità per i clienti che volessero ritirare i loro depositi. A quel punto cosa ha fatto Bankman Freedom? Non è riuscito a raccogliere nuovo capitale, Binance che è una piattaforma rivale, è la più grande al mondo, ha guardato un po' la situazione dei conti di FTX e ha detto no io non ti aiuto a uscire da questa crisi, nessuno l'ha aiutato, ha dichiarato fallimento, oggi sono stimati un buco da almeno almeno 10 miliardi di dollari e probabilmente un milione di clienti bruciati. Cosa ha fatto Bankman Freedom? Ha creato una criptovaluta e l'ha messo in garanzia dei prestiti che si faceva a fare dalla sua piattaforma al suo fondo. Dunque una struttura assolutamente instabile che non poteva tenere, questo prestito forzoso teoricamente doveva servire a salvare il suo fondo che nel colossale crollo del criptovalute ha accumulato grandi perdite e lui ha cercato di compensare e in qualche modo come dicono gli americani gamble for resurrection, cioè di scommettere tutto quello che aveva per risorgere evidentemente ha perduto tutto quello che aveva non lui ma che avevano i suoi clienti, per quello non è riuscito a rimborsarli. Gabriele Petrucciani, come accennava poco fa Federico Fubini, il 2022 non è stato un anno favorevole per il bitcoin. È così? Da inizio anno la cripto fondata da Satoshi Nakamoto sta perdendo oltre il 60% e il bilancio diventa ancora più pesante se andiamo ad analizzare i prezzi dai massimi raggiunti a circa 68 mila dollari a novembre dello scorso anno. Il bilancio è di meno 75%. Un vero e proprio crollo verticale che ha contagiato tutto il mondo delle criptovalute. Dobbiamo dire però che è stato un anno particolare per tutte le asset class, quindi anche azioni e obbligazioni, che hanno sofferto per la guerra russa-ucraina, per il rialzo dei prezzi delle materie prime, per l'impennata dell'inflazione e per una politica monetaria più restrittiva da parte delle banche centrali, che stanno drenando liquidità dal sistema. Il Nasdaq Composite, per esempio, ovvero l'indice americano dei titoli tecnologici, sta perdendo da inizio anno il 30%, con diverse società al suo interno, anche quelle più blasonate, che stanno facendo registrare cali ben più consistenti. È il caso di Meta, la ex Facebook, che perde il 67%, di PayPal, in calo del 60% circa, o di Netflix, giù di oltre il 50%. Il Bitcoin, quindi, ha evidenziato una volatilità e un andamento molto simile a quello delle asset class a più alto rischio. Dunque, c'è una cosa che ci ha insegnato il 2022, che le criptovalute non sono più decorrelate dalle azioni, come lo erano una volta. Ma quali sono le previsioni sui Bitcoin? Le quotazioni si riprenderanno o assisteremo a nuovi cavoli. Gli esperti sono divisi sul futuro del Bitcoin. I sostenitori della cripto ritengono che la moneta virtuale sia sottovalutata ai prezzi attuali, ovvero 16.700 dollari, e che, con l'avvicinarsi del prossimo halving, stimato a marzo 2024, tenderà a riprendersi. Ci ricordi che cos'è un halving? L'halving è il dimezzamento della quantità prodotta di Bitcoin ogni 10 minuti. In concomitanza con le tre precedenti edizioni, nel 2020, nel 2016, nel 2012, il Bitcoin ha sempre fatto registrare un rally, per effetto di una diminuzione della quantità di criptovalute e quindi di un calo dell'offerta. E lo stesso potrebbe succedere anche questa volta. Poi ci sono gli antagonisti del Bitcoin. Cioè, chi sarebbero? Gli antagonisti del Bitcoin sono quelli che non vedono del valore nella criptomoneta, e si chiedono quando i prezzi crolleranno verso lo zero assoluto. Le loro sono ragioni valide, perché mettono a confronto azioni e criptovalute. Comprando azioni si compra una fetta di una società, che ha un suo bilancio, fatto di attività e passività, e quindi ha un suo valore intrinseco. Lo stesso, però, non si può dire per le criptovalute. E dov'è la verità, secondo te? Probabilmente nel mezzo, e mi spiego. Indubbiamente, dietro il Bitcoin non c'è una società con un bilancio da valutare, e quindi la cripto non può essere paragonata a un'azione. Ma se guardiamo al Bitcoin come a una valuta, allora alcuni vantaggi li ha apportati. Per esempio? A costi di transazione molto bassi rispetto ai pagamenti tradizionali, a zero i tempi per il trasferimento di denaro da un utente all'altro, e questo può essere molto vantaggioso nei trasferimenti trasfrontalieri, e poi, essendo una valuta decentralizzata, può favorire l'inclusione finanziaria in quei paesi con un tasso molto basso di famiglie bancarizzate. Non è un caso che le banche centrali stiano lavorando proprio per lanciare le loro valute digitali. Grazie Gabriele Petrucciani e Federico Fubini. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily.rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione, Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini con Francesco Giuliattini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.